Ho una vera e propria passione. Fino a piccolina amo la capitale francese. Nella mia cameretta condizionavo immagini iconiche della città. Questo è il racconto di Carlotta Ragazzini. Che bello, il sogno legato a Parigi, veramente, è diventato ancora più bello quando si è riuscito a portare a casa una medaglia di bronzo. Sì, già essermi qualificata per le Paralimpiadi di Parigi, che è la mia città del cuore da sempre, è un sogno diventato realtà. Poi essere riuscita a vincere una medaglia, una prima esperienza, una Paralimpiade ha reso tutto ancora più unico e indimenticabile, sicuramente. Sicuramente anche essere qua in questa giornata e avere vissuto le emozioni così, anche oggi, immagino, credo, che per te ti fai? Ma è incredibile. Aver partecipato alla competizione che ho sempre guardato, dico, fin da piccola, è un'esperienza che sognavo di poter fare, ma ovviamente non avevo nessuna certezza. essere qua con tutti questi grandi atleti è un'emozione unica e ripetibile, quindi non posso che essere felice. Cara Carlotta, anche tu sei una grande atleta. Carlotta, ragazzini! Grazie. 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 Grazie ancora e complimenti anche a te. E ora c'è...